Ciao a tutti e ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Vi ringrazio per i 111 follower, ma vi consiglio di spammare questo video ovunque e dire ai vostri amici di seguirmi perché sopra il favorvi una scommessa abbastanza interessante. Oggi è 16, se entro i 22, c'è una settimana, raggiungiamo i 121 follower. Voi deciderete i video che io vi porterò nel canale, proprio qui sotto, nei commenti. Il video è molto più interessante e magari chi ha più like io ve lo porterò. Promessa, vediamo se voi ci riuscirete. Iniziamo! Ok, adesso basta parlare di questo, ma subentiamo nel video. Come avete capito dal titolo, oggi andremo a vedere come cambiare radicalmente la nostra scrittura. Quindi da Instagram, dalle impostazioni, da YouTube. Perché però è tutto. La nostra scrittura non sarà più quella predefinita nel nostro Huawei. Vi ricordo anche che tempo fa feci un video parlando delle emoji, cioè come avere le emoji dell'iPhone su un Huawei. E entrambi questi due video sono per Huawei, quindi se avete altri tipi di telefoni, mi dispiace, ma io non vi posso aiutare. Se volete questo video lo troverete benissimo nel mio canale. Bene, queste due cartelle sono una dimostrazione che funziona anche dopo tempo. Prima di tutto ci dobbiamo ricavare su Prestore e scaricare la nostra affidata e amica. Tainville Huawei Apriamo, ormai siamo più amici con lei che con i nostri veri. La scorsa volta ci siamo andati su emoji invece, questa volta andiamo su caratteri, dove vi sono un sacco di stili di testo che voi potrete scarcare. Peggiate su Google che vi piace di più, come per esempio questo. Ok, poi ottenere questo tipo di carattere voi consentite tranquilli. Non pesa niente, quindi se avete problemi di memoria oppure semplicemente non volete spiegare tanta memoria, e non pesa niente, è solo il camping. Successivamente se vorrete potete anche eliminare questa applicazione o anche tenere la maggiola di sistema. Ci dobbiamo ricavare su temi del nostro telefono, poi personali, stili di testo e qui molto probabilmente non vi ritroverete tutto questo, ma vi ritroverete uno o due temi che avrete scaricato come vi ho detto precedentemente. Quindi, come vedete, io ho una spunta su iOS 13, purtroppo la devo avere solo su una. Quindi se voi vorrete questa scrittura non potrete avere l'emoji di iOS. Prendiamo su, piegiamo su questa e applichiamo. Io ho tutti questi stili di testo semplicemente perché prima di portarvi una cosa nel canale vedo se funziona. E poi perché, come vedete, parlo tanto, quindi molto spesso sbaglio, queste cose. Solo per un video mi sto impiegando una memoria intera. Era 35% di memoria impiegata, ora ne è 40%. Quindi ringraziatemi. Ok, adesso uscite nella vostra home. Ma sentite quindi se vi appare questo, deve semplicemente caricare, il mio oggetto è caricato. Andiamo su impostazioni per farvi vedere che funziona. Come vedete questa scrittura è molto figa, molto molto bella, anche leggibile. Ci sono certe scritture che proprio non riesco a leggerne. Ma comunque se non vi piace questo, nell'applicazione potrete trovarne di ogni stile di scrittura. Ok, ora voi vi chiederete, come faccio se mi stanco oppure semplicemente non la voglio e voglio attivare un'altra? O semplice. Andiamo su temi. Sempre la stessa cosa. Quindi vi ritroverete qui. personali, stile di testo e potrete oppeggiare su iOS 13 oppure se non vorrete l'emoji dell'iPhone andate su posizione predefinita. Ok, succederà sempre la stessa cosa. Come vedete, stavolta ho l'emoji del Huawei, però io andrò a mettere una spunta su iOS 13. Applica. Ho visto che la spunta è passata da su iOS 13 e così avrò le mie bellissime e amatissime emoji. Detto questo vi chiedo, come sempre, di spammare like e iscrizione e vi aspetto alla prossima settimana per vedere se voi avete visto, avete vinto una scommessa o no. Ciao!